Un abbraccio simbolico dei bambini a operatori sanitari e pazienti. Nel reparto di nefrologia dell'ospedale di Piacenza, l'atmosfera natalizia si è accesa grazie agli addobbi realizzati e donati dai piccoli studenti del Terzo Circolo Didattico Cittadino e del Plesso di Ponte dell'Oglio. L'iniziativa è partita così da nulla e poi abbiamo avuto una grande adesione, per cui sono arrivati tantissimi lavoretti da tutte le scuole. In particolare noi vogliamo ringraziare i signori presidi che hanno aderito a questa iniziativa e sono la professoressa Carla Busconi del Plesso di Ponte dell'Oglio e il professor Manno Nicola del Terzo Circolo di Piacenza. Tutti gli insegnanti e logicamente tutti i bambini che con gioia ci hanno preparato questi lavoretti. Ci sono cartelloni, stelle, fiocchi, pupazzi di neve e alberi in miniatura. In nefrologia c'è la voglia di andare avanti, oltre la paura. È un bel segnale di vicinanza, un reparto che purtroppo vede dei pazienti che sono obbligati a venire per fare le cure di dialisi tre volte alla settimana e che nonostante questo periodo pesante che dura da tanti mesi hanno dovuto venire sempre qua in ospedale. Diciamo che con questo segnale almeno torniamo a ricordare un po' il Natale e pensare che se non altro, nonostante questo brutto periodo, se non altro la vita va avanti e speriamo davvero che almeno nei prossimi tempi possa andare anche meglio.